Ciao ragazzi e ciao ragazze, ecco mi tornate in un nuovo video. Oggi video straordinario e alle mie spalle vedete tutti i resti del mio compleanno perché da pochissimo ho fatto 18 anni e quindi oggi volevo farvi vedere tutti i regali ricevuti. So che non è un video molto attivante al fitness ma non fa niente, il compleanno lo faccio una volta all'anno e quindi almeno ho voluto cambiare la tipologia, spero tanto vi piaccia questa tipologia di video fatta soltamente, io mi occupo, ve lo ripeto, di fitness e niente, vi volevo ringraziare in primis per i tantissimi messaggi ricevuti su Instagram, se non mi seguite vi consiglio di farlo, sono con il nickname di My Evolution Body, sono stati veramente tanti e veramente tanti siete stati dolcissimi perché mi avete scritto che è uscita bella, che comunque vedete in rosa perché ho fatto tutto a tema del mio cuore preferito, io sono senza parole, sono bellissima e cioè spero che dopo questi 18 anni inizierà, perché da adesso devo dire che inizia la mia vera vita, la mia nuova vita e questi ostacoli, tutte le difficoltà e le paure che si presenteranno spero tanto di ovviamente superarle, di essere più calma perché il mio punto debole, ve l'ho detto anche in altri video, è l'ansia. Partiamo subito perché come regali diciamo che ho ricevuto più gioielli come si usa ai 18 anni, però diciamo che i regali sono stati top perché non sono stati uguali tra di loro. Qui ho la mega bustona dei regali e partiamo subito dai primi due perché ho avuto dei regali correlati tra di loro e adesso ve li farò vedere perché sono veramente bellissimi, hanno questa scatolona, sono due, cioè sono la parte di mia zia e di mia cugina, allora ci hanno fatto quasi insieme però questo qua è di mia zia ed è un cofanetto così e in pratica sono due meravigliosi orecchini di perle con tutti i diamantini attorno, è un qualcosa di spettacolare, molto fine e amo le perle perché mi piacciono molto, piacciono anche di più a mie sorelle, infatti mia sorella appena ha visto questo regalo, ah è mio, no, pre niente, sì sono delle perle tipo a punti luce veramente veramente eleganti e a questo mi ha abbinato questo cofanetto che posso, mi ha abbinato questo altro cofanetto che è un gracciale un gracciale di perle dove appunto è intervallato da delle perline argentato, sempre perle comunque saranno e non avevo mai ricevuto delle perle, cioè fino a 18 anni non le avevo mai ricevuti e veramente sono molto molto eleganti e fini e questi sono i primi due, li ho fatti metterli insieme perché erano correlati, cioè hanno detto di metterli insieme perché sono abbinabili altro regalino, questo, questa meravigliosa busta di stroili da parte dei miei cuginetti e allora c'è pure il biglietto, se vi interessa, allora dice tanti auguri a Angelina, bella da tuoi cugini, vabbè Giuseppe e Cristina questo qua è un bigliettino e all'interno c'è un orologio meraviglioso stroili, questo qua ce l'hanno in panti, ce l'avevo visto anche in giro, con questi sbrilluccichini, comunque è un semplicissimo orologio verde e con questi diamantini diciamo molto molto bello al braccio, sta veramente benissimo allora, altro regalo, andando avanti, questa busta Swarovski all'interno mi hanno fatto il regalo, i miei cuginetti belli infatti cuori ti vogliamo bene, cuori da Giuseppe Rosita e Francesco, che sono i miei cuginetti e qua dentro mi hanno regalato una cosa favolosa, di Swarovski che è veramente sbrilluccichalla grande ed è un completo di collana e orecchini, con questi veramente brillantini diamantini che luccicano e sono sudorato come io mi vesto sempre di durato e sono veramente veramente belli ok dopo, un Pandora, o meglio ben due Pandora allora, adesso partiamo dal primo il primo me l'ha regalato la mia commare di Cresima a cui mando un bacio se mi sta ascoltando, perché è il mio amore, la mia seconda mamma ed è questo, che è un bracciale Pandora, però ovviamente ha messo il portagioie perché lo davano adesso, in questo periodo, Pandora dava anche il portagioie ed è un bracciale molto molto bello, veramente bello e sarebbe il classico, quello là con appunto la chiusura classica morbido con tre charm diversi, allora il primo rappresenta il legame dissolvibile poi il secondo è l'appetto e poi mi ha regalato un pendente con il 18, appunto per gli anni che compio questo portagioie è veramente veramente bello perché appunto posso mettere i charm, gli anelli poi comunque c'è la custodia, i bracciali, perché c'è pure la forma per i bracciali ed è veramente utile, veramente comodo e questo è il primo bracciale, il ceruto il secondo bracciale è da parte di uno zio, fratello di mia nonna che è veramente veramente favoloso questo qua è rigido quello là invece era morbido, rigido con la chiusura a cuore e con me charm c'è un quadrifoglio, quindi la fortuna e sono veramente belli, soltanto che devo andare a cambiare quelli di primo perché mi va un po' largo questo qua è misura 17, quello è 19 quindi un pochettino mi va largo ora andrò a cambiare, comunque è spettacolo ultimo regalino mi pare, ah no, penultimo regalino penultimo regalino è questo bracciale favoloso da parte di mia zia mia zia è ovviamente famiglia che è questo un bracciale d'oro e d'argento ovviamente intervallato da queste due piastrine da questi due, sì, piastrine diciamo d'argento ed è veramente veramente bello da tutti i cerchi è molto fine, io li uso molto questi bracciali vistosi e l'ultimo regalino è una borsa una borsa Guess non so se si legge dalla Dastbeg comunque una borsa Guess dalla mia nonnina da parte mia nonna che è molto molto bella nera, semplice con appunto il logo Guess dietro c'è una cerniera molto molto funzionale l'ho già usata perché mi piace e dentro c'è un sacco di cerniere porta telefono c'è nera interna molto molto spaziosa la mia borsa, la prima borsa seria che ho ricevuto i 18 anni della mia vita e sì ed è molto molto bella poi c'è pure la Dastbeg e quindi è molto carina vabbè poi ovviamente i classici regali da parte degli altri nonni soldi, soldini io ho finito il mio video spero di esservi stata utile oggi con i miei regali fatemi sapere cosa ne pensate cosa avete ricevuto anche voi ai vostri patidici 18 anni no, vi mando un grosso bacio vi invito a iscrivervi a questo canale Fashion Sister Review dove pubblico un nuovo video ogni mercoledì alle ore 14 attivate anche la campanella che trovate sotto il video per attivare tutte le notifiche e non perdere nessun video quindi né il mio mercoledì né quello delle mie sorelle venerdì alle ore 14 cosa devo dire lasciatemi un pollicino in su e niente vi mando un grossissimo abbraccio e alla prossima ciao 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 ciao